Musica Musica Cari amici ben ritrovati Nuova puntata di eventi del territorio Quest'oggi siamo a San Pietro di Feletto Per San Pietro in festa Siamo in compagnia del nostro caro amico Gianluca Canziano Ben ritrovato Gianluca Presidente dell'associazione Amici dell'Antica Pieve Che dire, si riparte dopo due anni di fermo Ma con tanta voglia di fare La gente dietro di noi lo dimostra Assolutamente, assolutamente Dopo due anni non era facile Mettersi alla prova Invece il gruppo nostro Il Consiglio con tutti i volontari Ha fatto un lavoro fantastico in questi mesi La gente per fortuna risponde E si vede la voglia di tornare Alla vita comune Diciamo di compagnia Di comunità Musica Io dico sempre che senza le associazioni Io non potrei assolutamente fare nulla nel mio territorio Le associazioni, io ne ho parecchie nel mio territorio Sono quelle che tengono viva la comunità E che mi promuovono anche il territorio Con le varie attività In questo caso, esempio La festa del 29 di giugno Che è San Pietro e Paolo Che è proprio il patrono, il santo Che ha dato il nome a questa località San Pietro Musica 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 Un weekend ricchi di eventi Ma anche di tanti piatti tipici Raccontaci un po' come si svolge questa festa Sì, allora solitamente il venerdì Come questa sera Abbiamo la frittura di pesce Oltre alla solita griglia mista E Sabato scorso abbiamo fatto la porchetta Invece domani ci sarà Ci sarà il ciurasco Domenica lo spiedo E poi si concluderà il tutto Con lo spiedo del patrono Il 29 giugno, mercoledì E con i fuochi d'artificio Musica 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 Abbiamo la fortuna, come dicevo prima Di avere una grande squadra Formata da giovani e meno giovani Sono contento perché sono inseriti Tanti giovanissimi che Magari non avevano mai fatto Con questi due anni di chiusura Invece hanno risposto alla grande Tutti, tutta la comunità Quindi Grazie a loro Grazie all'amministrazione comunale Che ci è sempre vicina E che ci affianca Nei vari progetti Che portiamo avanti Quindi un ringraziamento doveroso A tutti i volontari Che formano una rete sociale Che tiene vivo il paese Beh, grazie a loro Le associazioni sono fatte Proprio dei volontari Che mettono a disposizione Le loro ore La loro passione E l'amore per il territorio Veramente Io li devo Devo veramente dare un Dire un grazie enorme Perché senza di loro Veramente Non potrei fare nulla Grazie Musica 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 E quindi Gianluca Prima di andare a mangiare Una fruttura di pesce Gli ultimi due secondi Davanti alla telecamera Invita i nostri amici telespettatori A venirevi a trovare Qui a San Pietro di Feletto Assolutamente Allora Ci vediamo tutti qui A San Pietro di Feletto Nel magnifico parco Della Pieve Abbiamo ancora tre giorni Soprattutto il giorno Flum Mercoledì 29 Con lo spiedo Del Patrono E i fuochi Lo spettacolo Pidotecnico finale Grazie a tutti Grazie mille a tutti E adesso Io e te andiamo a mangiare Una buona frittura Assolutamente Grazie 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 a tutti